Già nel 2013, per la verità, Renzi poi ha dato il colpo finale. Il Partito Democratico ha visto volare via un sacco di elettori, soprattutto verso il Movimento 5 Stelle, soprattutto nelle frange più radicali e più esposte, più fragili, più povere, diciamo una parola che non si usa mai in politica perché siamo diventati tutti così corretti da negare i problemi. Queste persone hanno sempre votato il centro-sinistra, come ricordava lei, soprattutto come dire in una logica bipolare, avevano sempre optato alla fine magari con un sacco di mugugni, con un sacco di pensieri negativi, però alla fine votavano. Questo non succede più, Renzi ha deciso peraltro anche nei commenti del post-voto, lui sta puntando al triplete, ha perso il referendum, le amministrative adesso cerca di perdere anche le politiche, così fa Lamplein. Anche in questi commenti dimostra molto fastidio, addirittura verso Pisapia che era un suo interlocutore fino a qualche settimana fa. Mostra fastidio verso chi non lo riconosce come leader di un centro-sinistra perché non lo è, lui è un leader di Renzi, di se stesso, di un'ipotesi di centro molto innovativa per certi versi e molto conservatrice per altri. Ma con questa sinistra, non solo con gli antichi comunisti di Sesto San Giovanni, ma secondo me con moltissime parti nel nostro elettorato tradizionale, lui ha rotto. Io lo dico da anni, all'inizio mi hanno preso tutti in giro, che era uno che protestava, che faceva quello che non gli andava bene niente, adesso lo dicono tutti, anche un po' sorprendentemente, oggi l'ha detto Veltroni addirittura, che era uno molto vicino a Renzi, un suo sostenitore, anche prima che diventasse segretario, che dice il Partito Democratico non è né di sinistra né innovatore, è un partito che sembra la Margherita, che adesso fa un po' sorridere, che sono passati un po' di anni anche dalla Margherita, però quasi a confermare la tesi che lei esprimeva iniziando la trasmissione. Direttore, lei mi conosce bene, all'inizio non ci credevo, io ero quello seduto a sinistra già allora, il problema è che io credevo nella possibilità di fare quel centro-sinistra, di rinnovarlo, perché noi comunque lo vediamo anche in queste ore che sono tornati Prodi e Berlusconi e io infatti sto preparando la maturità, fa caldo, mi sembra di essere tornato a quando ero ragazzo, però noi si voleva riprovare a costruire un'ipotesi di governo che tenesse insieme una tradizione come quella di Renzi, che era già allora più moderata la mia e la mia che era più in modo pronunciato progressista. Poi quella storia però si è rotta e lui ha rotto progressivamente con quasi tutti, perché se vede i grandi protagonisti della politica italiana del centro-sinistra l'hanno mollato quasi tutti, lo dico quasi con dispiacere, perché adesso è un po' facile, era più difficile quando l'ho mollato io, che era popolarissimo. Prima si parlava del fatto che Renzi fosse cambiato mentre stava a Palazzo Chigi, diciamo che l'ha trasformato anche lo schema delle larghe intese e del Nazareno, se lei agli elettori di Sesto avesse detto qualche anno fa che Berlusconi era un amico non ci avrebbero creduto, invece Renzi in questi anni l'ha spiegato più e più volte, addirittura parlò di profonda sintonia della necessità di vedersi, di condividere le riforme, questa funzione di Verdini di tramite che poi è andata un po' in crisi in queste ultime settimane, ma sappiamo quanto Verdini abbia contato in questa legislatura. Quindi è un po' caduto anche la polarizzazione rispetto alla destra, se ci pensa è successo anche in una città, Verona, dove Renzi non aveva fatto mai mistero di essere molto sintonico con Tosi, molto vicino a Tosi, poi si è presentata al primo turno una candidata che è arrivata a terza e poi Renzi addirittura ha fatto l'endorsement l'ultimo giorno del ballottaggio dicendo di votare la moglie, la compagna di Tosi che era la candidata sindaca del sindaco con Scente Tosi. Capisce che così non è che si capisca molto bene, un elettore di sinistra a Verona o in generale in Italia cosa fa? Vota Tosi perché è amico di Renzi? Allora non deve averne più paura di Tosi o di altri soggetti che provengano dal centrodestra. Quindi questo trasformismo, questo trasversalismo che ha portato al 40%, perché poi diciamoci la verità, qual è un risultato strepitoso, doveva poi essere temperato, gestito, invece Renzi da allora ha scelto di fare il post ideologico, quello che faceva il Jobs Act con l'articolo 18 che era roba vecchia, lo sblocca Italia con un sacco di cose che avrebbe fatto Berlusconi più che il PD o il centrosinistra, lo stesso la riforma costituzionale fatta a botte di maggioranza, si ricorda il Cossutta ma anche quelli un po' più moderati avrebbero detto la Costituzione non si cambia così, bisogna coinvolgere il Parlamento e lui ha rotto con una serie di tradizioni, per un po' gli è andata bene, adesso si trova in un guaio, perché poi la cosa che sta emergendo è che lui dice che è noioso parlare di alleanze, il problema è che non è che è noioso, nessuno vuole allearsi con Renzi di fatto, perché non solo chi è uscito dal PD, prima io poi tanti altri, non solo chi stava a sinistra come ricordava lei storicamente, ma anche chi si chiede perché bisogna votare Renzi, almeno una volta vinceva, se Renzi non vince, che era uno dei suoi argomenti preferiti, non un po' juventino, l'argomento juventino di Renzi, si vota Renzi perché è uno che batte Berlusconi e vince, forse questa cosa va un po' rivisitata, rivista, chi fa le feste dell'unità, che non si chiameranno più dell'unità perché non c'è più, anche questo è un grande risultato di questa stagione politica, avere distrutto tutti i riferimenti culturali che c'erano a sinistra, però ripeto, quelli che sono impegnati poi si ritrovano a votare la compagna di Tosi perché è una democratica, rispetto, c'è sempre qualcuno un po' meno di destra a votare, così capisce che si fa il giro perché non c'è mai limite a questo ragionamento e non c'è mai limite dal punto di vista del riferimento ideale. Lo schema Macroni in realtà un pezzo l'aveva fatto, bisogna dire che Renzi in questo era stato molto innovativo e anche molto capace, il problema è che non doveva andare al governo con le larghe intese come gli dissi io, poi allora fui preso a male parole, però non si può fare i rottamatori e poi stare con Alfano che come dice dall'interno agli esteri fra un po' lo mandiamo nella Galassia, ministro della Galassia, però capite che stride la presenza di un pezzo di centrodestra che anche io non ritengo diabolico, il demonio, però comunque io non lo voterei Verdini o la Lorenzin, mentre gli elettori del PD probabilmente alle elezioni saranno costretti a votarli o comunque ad averceli alleati come ricordava Lenzi prima, quindi ha scelto di fare una cosa che strideva con la sua stessa narrazione, gli è andata benissimo fino all'europea e doveva creare un ambiente più salutare, più di dialogo, più di confronto sulla politica, perché poi vorrei dire un'ultimissima cosa, non è che stiamo parlando solo di sigle e siglette, mentre noi votavamo sui ballottaggi e analizzavamo il voto, c'è stata un'operazione bancaria incredibile in questo Paese, sulla quale non c'è stato nessun controllo democratico più di tanto, nessun dibattito, perché è stata fatta in pochissimi giorni, al di là della soluzione che a me non piace, segnalo però che gli errori ci sono stati in questi anni, perché il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'ottimo Padoan, hanno sempre spiegato che le banche stavano bene, addirittura che bisognava comprare le azioni, ma anche le obbligazioni, si siamo ritrovati a dover fare un'operazione miliardaria, qualcuno dice 16, qualcuno dice un po' meno, qualcuno dice che tornano 5 miliardi come se fossero 5 euro, perché la dicono con la stessa scioltezza, forse non sono stati proprio bravissimi, anche questo va detto, è un modello innovativo ma doveva funzionare, se non funziona poi torna Prodi, no, torna Berlusconi o torna Berlusconi.